bravo marco bravo bravo ritagliare il tronco si, così se si sgancia Figaro scappa Vito scappa Cosa ti ho detto che li ribeccavamo di qua? vi ho detto che vi ribeccavo qua eh brava, complimenti e no ma è giusta, l'hanno fatta tutta giusta poi se vuoi tagli di lì ti ritrovi al bivio esatto però dopo di là devi salire fino a su in cima ti ritrovi alla rotonda che scende giù